Si raccusa per il ballerino Davis Salosky si aprono le porte alla Scala di Milano. Per il servizio di Davis Salosky si aprono scenari inediti per lo sviluppo della sua vita. Ha superato la selezione finale della missione alla Scala di Milano. Davis ha cominciato a studiare danza alle tanti cinque anni, la sua è una grande passione. Fin da piccolo diceva di voler fare il ballerino e i suoi genitori lo hanno agevolato riscrivendo la scuola di danza dove ha imparato la tecnica e maturato questa sua passione mai svanita in questi sei anni di studio. Davis Salosky ha superato la selezione finale della missione alla Scala di Milano dopo il periodo di prova a cui hanno partecipato gli otto candidati ammessi dalla selezione avvenuta con video. Hanno sostenuto l'esame e solo in quattro sono stati promossi la missione conseguita al secondo corso riconoscendo quindi valido il percorso didattico intrapreso. Davis dopo aver partecipato alle selezioni con grande felicità farà parte del secondo corso dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano molto contento e fiero di sé a settembre gli si apriranno le porte di questo nuovo importante percorso per poter diventare un vero ballerino professionista. L'Accademia Teatro alla Scala oggi preseduta da Giuseppe Vita e diretta da Luisa Vinci è considerata fra le istituzioni più autorevoli per la formazione di tutte le figure professionali che operano nello spettacolo dal vivo artistiche, tecniche e manageriali. La proposta didattica si articola in quattro dipartimenti musica, danza, palcoscenico e laboratori e management per una trentina di corsi frequentati ogni anno da oltre 1700 allievi. Una bellissima conquista, la redazione di Libertà Sicilia augura a Davis un brillante futuro. Grazie per la visione!